23 arresti al culmine dell'operazione antimafia messa a segno questa mattina nell'ambito di una indagine della DDA, un'inchiesta secondo cui Falsone continuerebbe a dare ordini dal carcere messino a denaro a fare il bello e il cattivo tempo. Per la città di Sciacca oggi è la festa della patrona Maria Santissima del Soccorso, un 2 febbraio senza la tradizionale processione del simulacro della Madonna a causa della pandemia, su RMK la replica della processione dello scorso anno. Teatro Samona ha pronto il progetto del genio civile di Agrigento per i lavori di manutenzione straordinaria della struttura di Biagato, che per i quali sono stati stanziati dalla regione siciliana 1 milione e 200 mila euro. Covid e curva dei contagi in provincia di Agrigento, il coronavirus allenta ulteriormente la presa, un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore su oltre 300 tamponi effettuati, situazione che migliora in tutti i comuni agrigentini. Di grande difficoltà la situazione nella quale versa la farmacia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, quanto viene fuori da una pressione a cui l'unità operativa è sottoposta senza però disporre del personale necessario. Rifiuti anche per l'anno 2020, i comuni di Calamonaci, Villa Franca Sicula, Burge e Lucca Sicula si confermano ai primi posti nelle classifiche regionali e nazionali per la raccolta differenziata, in arrivo importanti premialità. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. La cronaca oggi in apertura, 23 arresti sono stati effettuati dai carabinieri nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia nel mirino degli inquirenti le famiglie mafiose agrigentine, un'inchiesta secondo cui il boss Giuseppe Falsone continuerebbe dal carcere a dare ordini e secondo cui Matteo Messina Denaro farebbe regolarmente il bello e il cattivo tempo. Ci racconta tutto in questo servizio Massimo D'Antoni. Il boss Giuseppe Falsone, tuttora in carcere, sottoposto al regime carcerario del 41bis, avrebbe continuato regolarmente ad esercitare il ruolo di capo della famiglia mafiosa di Agrigento, veicolando e ricevendo informazioni con gli altri boss attraverso l'avvocato canicattinese Angela Porcello. È solo una delle scoperte fatte dai carabinieri e dalla DDA di Palermo nell'ambito di un'inchiesta culminata stamattina con 23 arresti. Proprio canicattivi viene considerato l'epicentro del potere mafioso di Falsone, nel quale confluiscono anche le famiglie di Campobello di Licata, il paese di origine dello stesso Falsone, ma anche di Licata e Ravanusa. L'avvocata Porcello, compagna di Giancarlo Bugea, considerato il primo fiancheggiatore di Falsone, avrebbe organizzato summit mafiosi nel suo studio legale, ritenendolo evidentemente a luogo non soggetto ad investigazioni. E invece i carabinieri hanno scoperto che proprio dentro quello studio si sarebbero svolti incontri che hanno riguardato esponenti mafiosi di primo piano, tutti considerati capi mafia dei territori di appartenenza, dal Ravanusano Luigi Boncori al Favarese Giuseppe Sicilia, dall'Icatese Giovanni Lauria al Villa Abatese Simone Castello, quest'ultimo considerato un fedelissimo storico di Bernardo Provenzano. Ma non è tutto. Per gli investigatori a quei summit partecipava regolarmente anche Antonio Chiazza, considerato esponente di vertice della stidda, che dunque sarebbe rinata in un ambito di rapporti stretti e di spartizione delle attività criminali sul territorio con Cosa Nostra, e che avrebbe avuto tra gli organizzatori, gli ergastolani, che godono del regime di semilibertà, Antonio Gallea, ritenuto il mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, e Santo Gioacchino Rinallo. I carabinieri ritengono di avere scoperto l'azione mafiosa sul territorio che sarebbe stata esercitata da Calogero di Caro, considerato l'attuale capo del mandamento di Canicattì, tutti i soggetti che avrebbero agito d'accordo con i mandamenti di almeno altre tre province siciliane, Palermo, Catania e Trapani, a suggellare l'unitarietà dell'azione mafiosa. Un'organizzazione mafiosa che avrebbe controllato e sfruttato il settore commerciale della compravendita di uva ed altri prodotti ortofrutticoli, settore questo nel quale gli inquirenti hanno rivelato di avere sventato l'uccisione di almeno due persone, un mediatore ed un imprenditore, che non avevano pagato il pizzo. Ma c'è di più, l'antimafia ha scoperto che la famiglia mafiosa grigentina avrebbe stabilito contatti concreti con la famiglia mafiosa new yorkese dei Gambino con l'obiettivo di avviare articolate attività di riciclaggio. Tra le linee d'azione considerate più importanti da Cosa Nostra vi è quella dell'inabissamento, esigenza particolarmente sentita anche con riguardo alle inchieste giornalistiche, secondo l'esempio di Provenzano per il quale rimanere invisibile era un'inderogabile regola di vita. La particolare ampiezza dell'azione investigativa ha cristallizzato inoltre la perdurante opposizione apicale nell'ambito di Cosa Nostra di Matteo Messina Denaro, il superlatitante mafioso che dunque evidentemente continua ancora ad essere il capo della stanza dei bottoni, continuando a decidere e continuando a dare ordini. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, affavoreggiamento personale, tentata estorsione e altri reati aggravati poiché commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. L'inchiesta riguarda anche un ispettore ed un assistente capo della polizia accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione dei segreti d'ufficio, nonché l'avvocato Porcello. Gli indagati rispondono a vario titolo di mafia, estorsione, favoreggiamento aggravato. L'indagine è stata portata a termine dai carabinieri del Rosso col supporto operativo dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e con l'ausilio dei Comandi Provinciali di Trapani, Caltanessette e Palermo del XII Regimento Sicilia, dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, del nono nucleo elicotteri. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore di Palermo Francesco Lovoi, dall'Aggiunto Paolo Guido e dai PM Geri Ferrara, Claudio Camilleri, Gianluca De Leo. Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa applaude all'operato dei carabinieri del Rosso, del Comando Provinciale dei Carabinieri, per i brillanti esiti dell'operazione antimafia messa a segno alle prime ore dell'alba. L'operazione, commenta il prefetto, rappresenta l'ulteriore testimonianza dell'impegno quotidiano che l'arma dei carabinieri e le forze dell'ordine tutte profondono, soprattutto in contesti territoriali difficili, come quello della provincia grigentina, per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini. Voltiamo pagina un 2 febbraio anomalo senza la tradizionale processione della Madonna del Soccorso per le vie del Centro Storico di Sciacca per supplire, seppur in piccola parte, a questa mancanza. La nostra emittente ha pensato di proporvi momenti salienti dell'ultima processione, quella del 2 febbraio 2020, attraverso la telecronaca di quel giorno di Massimo D'Antoni e Pippo Verde. Vediamo. Un 2 febbraio anomalo. Il Centro Storico di Sciacca oggi non accoglierà la folla di fedeli che ogni anno accompagnato la tradizionale processione della Madonna del Soccorso. Il simulacro della patrona della città non verrà portato in spalle e a piedi scalzi da chi ne ha fatto la promessa. Le campane non suoneranno a festa all'uscita e all'entrata della statua dalla Chiesa Madre. La banda non risuonerà nel circuito cittadino. Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso a dir poco ridimensionati, quelli del 2 febbraio 2021 che al pari dello scorso 15 agosto non culmineranno con la sentita processione. I motivi sono noti e legati ad un'emergenza sanitaria ancora da fronteggiare e superare. Rivolgere le proprie preghiere alla Madonna del Soccorso rimane l'unico modo e forse il più autentico per onorare questa giornata tanto cara a Sacensi che ricorda quel giorno nel 1626 in cui si narra che Sciacca venne salvata dalla peste. Oggi, come allora, occorre pregare affinché Maria Santissima protegga i suoi figli ha commentato nei giorni scorsi l'arciprete della città Don Giuseppe Marciante ai nostri microfoni. Dobbiamo portare noi stessi la Madonna in processione ha aggiunto l'arciprete Marciante saremo noi le vare che porteranno Maria nelle case e per le strade. Vie che oggi rimarranno in un silenzio insolito. Lì dove tradizionalmente viene svolto il rito della fumata al centro di Via Giuseppe Licata è stata ugualmente collocata la luminaria che segna quel momento cruciale della processione. Un gesto simbolico fortemente voluto dall'Associazione dei Portatori della Madonna del Soccorso Don Andrea Falanga è realizzato grazie alla collaborazione di alcune famiglie. È infatti forte il legame tra la Madonna e i saccensi. A testimoniarlo la presenza di tanti fedeli che seppur nel rispetto delle direttive anticontagio che limitano la presenza all'interno dei luoghi di culto hanno partecipato al cosiddetto Ottavario gli otti giorni di preghiera dedicati proprio alla patrona della città. Così come in tanti anche a piedi scalzi hanno rinnovato il proprio voto individuale alla Madonna del Soccorso durante la giornata di ieri. Anche oggi si continuerà con le celebrazioni eucaristiche in Chiesa Madre nel pomeriggio in programma ancora alle 17 e alle 19. La nostra emittente vuole però attraverso gli strumenti a propria disposizione superare i limiti imposti portando nelle case dei telespettatori i momenti salienti della processione della Madonna del Soccorso dello scorso anno attraverso la telecronaca di quel giorno del giornalista Massimo D'Antoni e dello storico Pippo Verde. Vi invitiamo dunque a sintonizzarvi alle 16.50 in punto sulla nostra emittente canale 115. La processione sarà trasmessa anche in streaming sulla nostra app RMK TV Shack sulla nostra pagina Facebook e sul sito internet www.telemontecronio.it Il Genio Civile di Agrigento ha redatto e approvato in un mese il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Samona di Shacka quelli per i quali sono stati stanziati dalla regione 1.200.000 euro e il capo del Genio Civile Rino Lamedo illustrare al nostro telegiornale gli interventi previsti che riguardano il ripristino della saletta da 80 posti e della sala principale quella da 800 posti che però potrà essere utilizzata per convegno o concerti musicali non per le attività teatrali sentiamo le sue dichiarazioni Maria Genuarti Un progetto redatto e approvato dal Genio Civile di Agrigento nell'arco di un mese via libera alla manutenzione straordinaria del Teatro Samona di Shacka per un investimento di 1.200.000 euro stanziati dalla regione e il capo del Genio Civile Rino Lamedola illustrare al nostro telegiornale cosa prevede il progetto ieri il progetto è approvato quindi nei prossimi giorni lo invieremo all'assessorato all'economia per acquisire il finanziamento insomma il progetto impegna risorse per 1.200.000 euro complessivamente e chiaramente disse le risorse è un intervento finalizzato a una manutenzione ordinaria che poi diciamo consentirà l'apertura della sala di saletta del corpo C che sono quella piccola di 80 posti ma saremo nelle condizioni di riaprire anche quella grande di 818 posti se non sbaglio chiaramente però potrà questa sala la più grande potrà essere adibita soltanto a congressi convegni anche con concetti musicali non può essere adibita ancora a teatro perché nel progetto di manutenzione visto l'importo non siamo riusciti ovviamente a trattare la parte che riguarda i camerini spogliatoi che sono nell'altra ala del teatro quella che ancora i lavori sono molto indietro quindi diciamo andiamo a consentire la riapertura della parte già completata Teatro Samonache dunque non potrà ancora essere utilizzato per attività teatrali per raggiungere questo obiettivo come per completare la struttura occorrerebbe ben altro finanziamento i lavori che si andranno a realizzare sono comunque importanti per recuperare l'esistente evidenzia il capo del genio civile che entra nel merito degli interventi che verranno effettuati nello specifico gli interventi sono dotare il teatro di un incanto pugnario che non c'è il posto ora non è collegato alle acque in reso e non sono collegate con la codotta pugnaria comunale quindi questo intervento prevede il collegamento tutti gli impianti elettrici idrici meccanici saranno revisionati perché sono ammalorati sono ammalorati a causa dell'abbandono della struttura di diversi anni oramai poi ovviamente ci sono lavori di interneabilitazione lavori di ripistamento insomma sono tutti lavori di manutenzione finalizzati a ripristinare la funzionalità di quello che è già stato costruito ecco l'ala che invece non è stato i lavori non sono stati completati per il completamento ovviamente gli importi non sono quelli di un milione avrebbero bisogno di risorse ben superiori ma al momento diciamo noi dobbiamo rifunzionalizzare quello che già c'è che sarebbe già una cosa importante per Sciacca e siamo alla covid curva dei contagi migliora ancora la situazione in provincia di Agrigento dove ieri un solo nuovo caso è stato riscontrato su 321 tamponi effettuati il covid allenta ulteriormente la presa nell'Agrigentino dove la situazione è sotto controllo ormai da diversi giorni 40 gli attuali positivi a Sciacca vediamo la curva epidemiologica allenta ulteriormente la presa in provincia di Agrigento dove nelle ultime 24 ore c'è stato solo un nuovo caso positivo su ben 321 tamponi effettuati una situazione che in realtà non desta allarme e preoccupazione ormai da tantissimi giorni ieri in assoluto la giornata migliore dal punto di vista dei contagi con solo un nuovo caso come si diceva 28 guariti un nuovo ricovero è l'altro dato sicuramente confortante che non si registrano nuovi decessi e così la situazione migliora in tutti i comuni a Sciacca due guarigioni accertate nelle ultime ore hanno fatto scendere a 40 il numero degli attuali positivi a Ribera invece le guarigioni sono state 6 e adesso le persone contagiate sono 44 7 a Sambuca di Sicilia 12 a Santa Margherita a Belice a Menfi le guarigioni sono state 4 adesso i soggetti in trattamento sono 22 11 a Calamonaci 9 a Cattolica Eraclea 116 casi ad Agrigento anche qui si è registrato un numero importante di guariti 63 le persone in trattamento a Ravanusa 87 a Licata 58 a Favara 47 a Canicattì 33 a Porto Empedocle anche la situazione negli ospedali non cambia di molto rispetto al giorno precedente 22 i pazienti ricoverati al San Giovanni di Dio 8 quelli ricoverati nella medicina Covid delle Giovanni Paolo II 4 i pazienti in terapia intensiva ad Agrigento mentre nella terapia intensiva di Sciacca si trova ricoverata una sola persona la situazione nella quale versa la farmacia dell'ospedale di Sciacca è di straordinaria difficoltà e quanto viene fuori da una pressione a cui l'unità operativa è sottoposta senza però disporre del personale necessario a partire da quello per la gestione delle forniture di farmaci e dispositivi ai singoli reparti c'è il servizio un servizio fondamentale per il funzionamento dell'ospedale che sta attraversando una fase complicatissima stiamo parlando dell'unità operativa di farmacia del Giovanni Paolo II di Sciacca che opera con pochissimo personale a sua disposizione oltre al primario c'è una sola dottoressa un infermiere un operatore ausiliario e con l'assenza di una figura professionale fondamentale come quella del magazziniere che è colui il quale è chiamato ad organizzare le forniture di farmaci e dispositivi di protezione individuale ai singoli reparti in funzione dentro il nosocomio un servizio quest'ultimo che al momento viene espletato in maniera che è possibile definire non convenzionale con il primario di ciascun reparto che quando si rende necessario effettuare il rifornimento di medicine ed altri supporti si vede costretto a mandare in trasferta presso la farmacia un proprio infermiere per procedere alla preparazione delle forniture dalla soluzione fisiologica ai guanti dai farmaci necessari da somministrare ed agente e tutto il resto che è possibile immaginare per far funzionare regolarmente la struttura al momento la farmacia dell'ospedale di Sciacca diretta dal dottor Giuseppe Bellavia che è responsabile anche della farmacia del San Giovanni di Dio di Agrigento ha bisogno di aiuto perché il servizio che rende rischio è il collasso soprattutto se si pensa che in piena emergenza covid è nel mezzo della campagna vaccinale l'unità operativa è chiamata anche a gestire il servizio di conservazione e distribuzione dei vaccini con esigenze diverse che comprendono anche la disponibilità necessaria di frigoriferi e contenitori termici per custodire al meglio i vaccini naturalmente il personale della farmacia dell'ospedale di Sciacca preferisce non commentare né rilasciare dichiarazioni ma tra le corsie dell'ospedale il malcontento degli operatori sanitari è a dir poco palpabile un'emergenza che si associa alle tante altre che purtroppo il settore della sanità pubblica siciliana è costretta ad affrontare e alla quale si guarda in prospettiva confidando nel fatto che prima o poi la disponibilità di risorse maggiori per fronteggiare la diffusione del coronavirus possa dare finalmente una risposta a tante criticità più o meno latenti ed ieri la denuncia sui turni stressanti per operatori dei laboratori di analisi degli ospedali di Sciacca e Ribera turni comunicati solo pochi giorni prima di essere resi operativi stamattina abbiamo raggiunto telefonicamente Alessandro Farruggia operatore sanitario e rappresentante sindacale sentiamo cosa ci ha detto Farruggia come mai la Cisla è intervenuta su questa vicenda che riguarda la turnazione degli operatori allora la Cisla è intervenuta in merito alle problematiche e le criticità evidenziate più volte alla direzione alle diverse figure strategiche poiché il diretto responsabile che si occupa della gestione purtroppo nonostante diciamo le sollicitazioni degli organi competenti continua imperterrito a apporre il personale ad uno stress lavorativo con turni massacranti e purtroppo ne conferme il fatto che ancora ad oggi ancora il 31 di gennaio i dipendenti erano in attesa della turnistica per poter programmare diciamo anche la propria vita familiare e quindi quello che era è la sfera della conciliazione lavoro famiglia purtroppo ancora oggi ripeto questa situazione nonostante gli sforzi che la direzione strategica ha evidenziato attraverso della richiesta delle molte relazioni e per la quale lo stesso diversamente da quando è stato denunciato diceva di essere comunque nel rispetto delle regole però come ti può effettivamente dimostrare è tutto il contrario di quello che dice il dottor Friscia che oggi è il direzzo responsabile della gestione dei turni ecco adesso vi aspettate una risposta dall'ASP su questa avvertenza dall'ASP ci aspettiamo una presa di posizione dura perché voglio dire nonostante i continui solleciti dagli ocani preposti purtroppo la situazione non è cambiata quindi ci aspettiamo che nel più breve tempo possibile anzi se non nell'immediato si possa dare una svolta a questa situazione poiché rende la situazione ormai da tempo difficile per tutti i dipendenti parcheggi riservati ai disabili è l'argomento al centro di una riunione convocata dal sindaco Francesca Valenti per venerdì prossimo 5 febbraio nella sala giunta del comune di Sciacca all'incontro sono stati invitati a partecipare tra gli altri dirigenti della polizia municipale e del settore affari sociali il monte il monte san calogero di Sciacca sarà inserito all'interno della rete natura 2000 dell'unione europea come zona speciale di conservazione si tutela e valorizza ulteriormente un sito già di importanza comunitaria ha evidenziato l'assessore regionale all'ambiente Salvatore Cordaro sentiamo il monte san calogero di Sciacca sarà inserito all'interno della rete natura 2000 dell'unione europea come zona speciale di conservazione il governo musumeci su proposta dell'assessore all'ambiente Totò Cordaro ha dato il via libera allo schema con cui il ministero dell'ambiente procederà adesso alla sua designazione ufficiale nel dicembre 2019 con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale erano stati definiti obiettivi e misure di conservazione di quello che attualmente è già un sito di importanza comunitaria la rete natura 2000 è lo strumento con cui in Europa si garantisce la biodiversità dei territori e la tutela degli habitat naturali preservando la flora e la fauna rario in pericolo è costituita dai siti di interesse comunitario identificati dagli stati membri secondo la direttiva habitat successivamente designati zone speciali di conservazione si tratta di un'azione perfettamente in linea con un principio ispiratore del nostro governo ha dichiarato l'assessore all'ambiente Salvatore Cordaro che è quella di salvaguardare l'ambiente attraverso uno sviluppo intelligente del territorio il nostro obiettivo aggiunto è quello di coniugare la tutela con la valorizzazione e la messa a reddito del nostro straordinario patrimonio ambientale il monte San Calogero di natura calcarea che sovrasta Sciacca è caratterizzato da un sistema di grotte di natura carsica uniche in Europa per la presenza di aria calda sul furia di origine vulcanica il complesso ipogeo è composto da cinque grotte principali utilizzate a scopi terapeutici fin dagli antichi greci le stufe di San Calogero la grotta cucchiara la grotta dell'ebroso la grotta del gallo e quella mastro ma l'aria ha anche un'importante rilevanza naturalistica legata alla flora e alla fauna presenti che adesso potranno essere tutelate a livello europeo su tutto il monte si estende una riserva naturale di circa 50 etteri composta da una fitta vegetazione principalmente rupestre pubblicato nel sito della regione il decreto con il quale Girolamo Alberto Di Pisa viene nominato commissario straordinario del libero consorzio comunale di Agrigento il decreto di nomina è stato adottato adottato in seguito all'entrata in vigore della legge regionale del dicembre 2020 che prevede il rinvio delle elezioni dei vertici del libero consorzio tra il 15 e il 30 marzo 2021 Girolamo Di Pisa è stato confermato nella carica per la quinta volta era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dal presidente Musumeci il 31 gennaio 2018 l'ultima nomina era in scadenza per il 31 gennaio 2021 1.300.000 euro per interventi di edilizia e acquisto di apparecchiature digitali per le scuole grigentine i fondi sono stati assegnati dall'assessorato regionale all'istruzione ce ne occupiamo in questo servizio assegnati dalla regiona gli istituti scolastici siciliani 26 milioni di euro per l'acquisto e l'installazione di attrezzature digitali compreso il traffico dati e per la riqualificazione degli ambienti scolastici a garanzia della sicurezza e del distanziamento individuale abbiamo dato attuazione a quanto previsto dalla finanziaria 2020 a sostegno delle istituzioni scolastiche afferma l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla confermando l'impegno del governo Musumeci per il potenziamento della dotazione informatica a supporto della didattica a distanza e per il miglioramento e la riqualificazione degli ambienti per la ripresa delle attività didattiche in presenza con l'erogazione di queste risorse peraltro la regione intende anche favorire l'acquisto da parte delle scuole dei dispositivi di protezione FP2 per i docenti di sostegno in ogni ordine di scuola e per gli insegnanti dell'infanzia ma anche delle attrezzature di filtraggio dell'aria per l'utilizzo nei locali meno areati così come era stato consigliato dal comitato tecnico-scientifico regionale in particolare 8 milioni di euro sono destinati all'acquisto di tablet da consegnare in comodato d'uso agli studenti per la valorizzazione della scuola digitale saranno distribuiti a 468 istituzioni scolastiche di ogni ordine del grado della Sicilia che hanno partecipato all'avviso pubblicato all'inizio di dicembre 18 milioni di euro sono destinati agli interventi di edilizia leggera nelle scuole per consentire il distanziamento interpersonale e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale interventi questi ultimi di cui beneficeranno 410 scuole dell'isola che hanno avanzato da relativa istanza la ripartizione nel territorio vede assegnare alla provincia di Agrigento 869 mila euro per l'edilizia leggera sono 20 le scuole destinatari e degli interventi sempre la provincia di Agrigento per le attrezzature digitali ha avuto assegnati 459 mila euro e 25 sono le scuole interessate Montallegro dopo la sfiducia al sindaco alla regione siciliana ha nominato il commissario che guiderà il comune fino alle prossime elezioni si tratta di Raffaele Zarbo dirigente di stato in pensione ex capo dell'ufficio scolastico provinciale l'assessore regionale al ramo Marco Zambuto ha dichiarato sono sicuro che la gestione commissariale e il traghettamento verso nuove elezioni da parte di Raffaele Zarbo saranno improntate all'insegna dell'esperienza amministrativa della competenza della massima trasparenza gli auguro un proficuo lavoro Anche per l'anno 2020 i comuni di Calamonaci Villa Franca Lucca e Burgio si sono piazzati ai primi posti della classifica regionale e nazionale relativamente alle percentuali di raccolta differenziata in particolar modo Calamonaci e Villa Franca hanno superato addirittura il 90% di differenziata ricevendo importanti premialità dalla regione siciliana e dal Conai Sentiamo I sindaci di Calamonaci Pino Spinelli Burgio Francesco Matinella Villa Franca Sicula Domenico Balsamo e Lucca Sicula Salvatore Dazzo comunità appartenenti all'Aro Alto Verdura e Gebbia si apprestano anche per il 2020 a rappresentare i propri cittadini sui gradini più alti del podio nelle classifiche regionali e nazionali inerenti alle percentuali di raccolta differenziata I quattro comuni egrigentini quindi si sono confermati ai vertici fra i comuni ricicloni in ambito nazionale iniziativa targata Lega Ambiente Calamonaci e Villa Franca hanno superato addirittura il 90% di differenziata entrando nell'elite assoluta mentre Burgio e Lucca seguono a distanza ravvicinata comunità che stanno lavorando per incrementare ulteriormente queste percentuali puntando su una migliore organizzazione del servizio che può contare da sempre sulla sensibilità degli utenti i quattro sindaci qualche settimana fa hanno anche inaugurato la sede a Lucca in locali comunali della nuova società consortile Alto Verdura Servizi Ambientali alla cui guida è stato chiamato l'amministratore unico Pasquale Amato Su questi ambiziosi risultati abbiamo chiesto in merito un commento al sindaco di Burgio Francesco Matinella Sicuramente è un obiettivo che le amministrazioni che fanno parte dell'Aro Burgio Lucca Villa Franca e Calamone stiamo portando avanti per avere risultati come Aro abbiamo una percentuale di raccolta del 90% con i singoli comuni che sono Calamone C e Villa Franca che sono i primi posti a livello regionale noi per quanto riguarda la raccolta abbiamo già formato la società consortile con il direttore di ingegnere Pasquale Amato già abbiamo avuto siamo andando avanti ora facciamo l'atto costitutivo dal notaio con l'acquisto dei mezzi già Villa Franca e Lucca hanno acquistato i mezzi Burgio farà più presto il contratto con i mezzi e andiamo avanti per avere sicuramente ancora andare avanti come Burgio siamo noi come percentuale siamo al 75% spero che metterò in campo come sindaco ma anche con l'aiuto del direttore della società azione per aumentare ancora di più la differenziata è un ottimo risultato tutti i 4 comuni abbiamo superato abbondantemente il 65% siamo rientrati nelle quote regionali per quanto riguarda le premialità è sicuramente un risultato importantissimo per quanto riguarda sia la raccolta ma anche per quanto riguarda poi nel successivo nel successivo futuro di avere anche vediamo poi anche risparmio per le per le cittadine il comune di Villa Franca Sicola sta per rendere fruibili le acque termali sul fure presenti sul proprio territorio la sorgente sarà utilizzabile gratuitamente da tutti i lavori di riqualificazione dell'aria sono quasi terminati e sono stati finanziati dall'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Balsamo sentiamo ultimi ritocchi alla riqualificazione dell'area che ospita le acque termali sul fure presenti in territorio di Villa Franca Sicola precisamente in contrada Mintina si tratta di uno spazio all'aperto su area pubblica corredato da alberi con sedute e fontana di acqua termale che sarà fruibile gratuitamente per tutti sono note le proprietà curative e terapeutiche dell'acqua sul fure sorgente attorno alla quale la comunità di Villa Franca spera di poter intercettare visitatori dall'Interland e turisti un progetto promosso dall'amministrazione comunale guidato dal sindaco Domenico Balsamo è un vecchio bevaio un antico bevaio dove scorre acqua solfuria in contrada contrada Mintera e quindi abbiamo cercato di valorizzare questa grande opportunità che è al nostro territorio cercando appunto di migliorare un po' tutto il sito dove si trova questa fontana e quindi rendendolo fluibile a quando volessero utilizzarlo diciamo che abbiamo cercato con un buon progetto di cercare intanto di cominciare a valorizzare a vedere dove scorre dove arriva quest'acqua e poi il percorso che fa per andare dentro questa vecchia fontana che è l'unica cosa che è stata conservata e poi attorno è stato creato un po' un insieme di altre opportunità appunto che nella parte bassa è stato creato un sito dove uno può andare a fare la doccia dove l'acqua scorre naturalmente addosso alle persone che possono stare tranquillamente sedute con una panchina fatta in pietra quindi è qualcosa che è interessante qualcosa che sarà bello vedere che a mio giudizio può rapportare gente anche nella nostra comunità appunto per questa particolarità che stiamo valorizzando è un progetto voluto fortemente dalla sua amministrazione e diciamo un progetto a cui andavate dietro da qualche anno sì io dico sempre che questa era un'incompiuta da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute compresa compreso il mio primo mandato però diciamo con la volontà dell'amministrazione di cercare di recuperare questo sito e di valorizzarlo così per come merita diciamo che in questo secondo mandato stiamo riuscendo siamo riusciti diciamo perché ormai siamo agli sgoccioli a valorizzare un po' quello che avevamo previsto e quindi dare a Villa Franca questa opportunità delle terme tra virgolette certo sono delle piccole cose però è un passo importante un po' verso che può aiutare a sviluppare il nostro territorio ironicamente possiamo dire che Villa Franca supera Sciacca sulle terme questa è un po' è un po' grossa però penso che Sciacca avrà modo di riconquistare quello spazio che aveva prima con l'impegno da parte di tutto dell'amministrazione delle associazioni locali io so che c'è tanta gente che si muove attorno alle terme di Sciacca penso che potrà andare a riconquistare quello che era lo spazio è la giusta locazione del Sciacca nel mondo delle terme quindi Villa Franca ha quello che ha e stiamo cercando di valorizzarlo nel nostro piccolo però auguriamo anche alla città di Sciacca che possa riprendere quello che negli ultimi anni ha avuto attraverso le terme adesso spazio alla Mondadori Luca Ricolfi dal suo stervatorio della fondazione David Shum fin dallo scorso febbraio sta studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione analisi non circoscritta alla sola Italia bensì allargata sempre all'insieme delle società avanzate a partire dai paesi europei sulla base dei dati che sono il faro della sua attività raccolte in questo libro in modo sintetico ordinato e leggibilissimo Ricolfi smaschera gli errori italiani nella gestione della pandemia e le conseguenti bugie volte a nasconderli di governanti politici e amministratori e giunge a conclusioni che in pochi hanno avuto finora l'attenzione di cogliere la seconda ondata era evitabile tanto è vero che più di un terzo delle società avanzate l'ha evitata le omissioni i ritardi e le incertezze dei governanti ci sono costati decine di migliaia di morti e decine di migliaia di pill se non facciamo se non facciamo subito quel che avremmo dovuto fare da tempo altre ondate saranno inevitabili e il disastro economico completo è difficilmente reversibile Luca Ricolfi libero da ogni ideologia non guarda in faccia a nessuno uscendo fuori dall'assurda e ideologica alternativa fra negazionisti e rigoristi fra aperturisti e paladini dei lockdown l'arrivo del virus e la tragedia che ci ha colpito avrebbero meritato ben altra gestione e Ricolfi implacabilmente dimostra che questo era possibile e altrove è stato fatto come andranno le cose l'ottimismo della volontà mi fa sperare che finalmente si cambierà strada e si guarderà con più attenzione al modello dei paesi che hanno avuto successo nella lotta al virus ma il pessimismo della ragione mi avverte l'attesa messianica del vaccino avvolgerà tutto e tutti quasi niente cambierà davvero nessuno sarà chiamato a rispondere delle sue azioni né ora né mai la notte delle ninfee come si malgoverna un'epidemia di Luca Ricolfi edito la nave di Teseo è tutto siamo in chiusura finisce qui la nostra informazione grazie per essere rimasti con noi appuntamento come sempre alle prossime edizioni arrivederci a Autore dei sovrapposti